Ehi Fereniki, dove sei? Non mi vedi? Dove sei finito? Perché non ci sei? Sono qui, guardami, guardami! Sto saltando! Ma ti sei trasformato in un omino! Esatto, un omino nero molto carino! Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki Io sono Stefano, che si chiamava? The Pedestrian? È un gioco molto molto particolare È simile agli escape per cellulare che già portiamo nel nostro canale Ma è un puzzle game molto innovativo Con sinceramente meccaniche che io non ho mai visto prima Quindi sarà molto interessante da provare Il gioco è strano quanto il nome Perché The Pedestrian Me l'ha chiesto cinque volte prima di iniziare a registrare Ma com'è che si chiama? Ma com'è che si chiama? Sono preparatissimo, sapevo bene il nome Sì, a voglia Ok, non te l'ho mai chiesto Allora, è peggio di My Little Blacksmith Shop Perché quello è davvero terribile Sembrano scioglilingua Ah, se la contendono, se la contendono Praticamente è particolare come gioco Perché combina il muoversi con uno stickman classico Con un puzzle Qua ci spiega cosa dobbiamo fare Praticamente noi premiamo F E adesso abbiamo un puzzle Proprio come quando di mettere i pezzetti Uno siamo all'altro Come quando facevi puzzle, esatto Uguale, uguale Classicissimo E per ora è super semplice Ovvero, dobbiamo collegare così questa Come li chiamiamo? Figurine? Tessere, a me piace testere Tessere, ok Collegare queste tessere Per creare un percorso Che permette al nostro omino Di raggiungere l'uscita Esatto E quindi superare i vari livelli La grafica io la trovo spettacolare Cioè come si muove così Tra un livello e l'altro Io lo trovo davvero bellissimo E infatti è davvero davvero bello da giocare Però vogliamo i livelli difficili? Ma l'hai visto che hai premuto Il pulsante dell'ascensore con un piede? Certo Ma scherzi Questo era un acrobazio Cosa vorresti dire? Quello stickman non può prendere l'ascensore con il piede? Non lo facciamo i puzzle Ma facciamo anche le acrobazie bellissime Mi sembra giusto Ok Direi che siamo al primo livello interessante Allora premiamo F Spiegazione qua sotto Praticamente dice che quando ci sono le linee tratteggiate Possiamo andare verso il basso Sì, molto semplice Molto semplice Allora Quindi essendo questa l'informazione che ci ha dato Io devo fare così Capito? Eh sì Per forza Perché ti fa pensare Ok collego qua Collego qua Facci la faccia Sono già messo lì Invece no Sono già pronto Invece no Invece ti voleva fregare Con quella voce te lo dice? Sì, sì Proprio con quella? Sì, sì C'è stato molto esplicativo Quella è la voce dell'albero saggio Ok Ok Cosa vuol dire dell'albero saggio? Perché devi iniziare? Se non ci hai mai parlato con l'albero saggio Da quanto stiamo registrando? Due minuti e stai già iniziando L'albero saggio? Ok Ti parla quando vai al parco a rilassarti Tu inizi a Ti addormenti un pochettino E l'albero saggio ti parla Ma vuol dire che hai le visioni Cosa ti succederà nella vita Che ti devi far controllare da qualcuno Bravo Ma assolutamente no Allora Ok Senza l'albero saggio Dimmi cosa dovresti fare adesso Allora Aspetta Ci sono Ok Sì, sì Devi collegare Questa Questa di sotto la metti sopra Questa? No, l'altra Questa? Esatto Ok E colleghi Dritto Però era semplice E beh I primi sono per forza semplici Ma l'albero saggio non serviva neanche Dai Ti è andata bene Ti è andata bene Impariamo anche ad utilizzare delle scale Fantastico Sei stata fortunata secondo me In un altro momento se vi è stato peggio Non ci provare Oh no Allora 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 Scala che scende Quindi teoricamente scendi qua Ma se scendessimo qua Poi non riusciremo a saltare E allora scendiamo in questa Ok Aspetta però perché dobbiamo spostare Hanno anche un vincolo Vedi su dove puoi mettere No beh certo Certo E quindi bisogna stare attenti Allora quindi Ta Ta E poi abbiamo letto qua Ok però non vedi A me verrebbe da fare così Ma poi qua non ci starebbe Quindi la devi tenere così E vai obliquo No non lo puoi fare C'è la scala Hai l'altra tessera Te la stai dimenticando Ah Ecco Ok allora È colpa dell'albero saggio Non è colpa di Steph Non è più saggio in questo momento Quindi No È saggio ma vecchio Infatti non capivo cosa volessi fare Ma vabbè No sì ero in tilt Ero in tilt potente Dicevo che è saggio ma vecchio Quindi ogni tanto Non vede certe cose belle Perde qualche colpo Ok Sì 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 Vabbè ci sta Ti puoi fidare ma non troppo Capito Una fiducia un po' Un po' ballerina Titubante Capite Ok qua Non so Non so dove andare Ok quindi devi prendere la La chiave Che scala Chiave Q W F Te lo stai dicendo dietro Ok Non fare il tardo E Va bene Va bene Te l'ha suggerito all'albero saggio Ammettita Sì esatto Tacchete Tacchete Sì perché dobbiamo prendere La nostra prima chiave In un modo un po' complicato Allora Questa è verso il basso Ma se noi scendiamo qua Non abbiamo la chiave La porta è chiusa Senza la chiave E quindi non ce la possiamo fare Quindi noi scendiamo sicuramente qua Ok Poi ci colleghiamo a questa Aspetta Aspetta Fammi sistemare un po' con ordine Questa qua così E poi teoricamente questa qua così Giusto? Sì 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 mi sa che è tutto giusto Dovrebbe funzionare Quindi ticket Tacchete Prendo chiave Salto saltello Girettino Bellino Apro porta Salto saltello Salto saltello Scalo tutto Ed esco via Perfetto Sì Ok Di nuovo chiave Allora Allora Famici pensare Qua non possiamo saltare Perché è troppo in alto Abbiamo un trip con la scala Incredibile Perché vedi che secondo me Questa da sotto Tu non la raggiungi Quindi puoi solo scendere Allora Aspetta 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 Voglio provarci io No Il mio Chi ci arriva prima Giusto? No Al contrario Giusto Al contrario secondo me Basta metterle così No Allora No 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 Aspetta Scollegale Esatto Mi stai facendo confondere Scollegale un attimo Allora Adesso colleghi Questa di sotto A questa porta No La tessera di sotto Questa A quella A questa Ok Ah ok Capito Riesci a vedere tutto quanto? Credo 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 Quindi Sta scendo E questa porta Mi porta alla chiave Esatto A prendere la chiave Perfetto Perfetto Te lo mette sempre al contrario Così tu pensi Alla soluzione semplice Invece devi pensare Che è quella un po' più complessa No Ti ci devi sempre ingegnare Un po' come negli escape Devi sempre stare attento E non trovare solo le soluzioni scontate Devi proprio pensare a tutte le possibilità Dove andiamo di bello? Buongiorno Cosa sono questi? Perché ci sta? Aspetta 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 Un filmatino Allora C'è un tipo che sta tipo dipingendo Credo Lei ha dei libri E sono caduti entrambi Cerca di prenderla È una storia molto avvincente È una storia d'amore Li raccoglie l'oggetto Vedi? Colpo di fulmine Parte 1 Si chiama così Esatto Oggi il giorno dopo San Valentino Noi vediamo ancora degli amori sbocciare Si sono stretti la mano Aspetta E che succede secondo te? Perché È riniziato È riniziato Perfetto Allora qua si fa interessante Ci sono quelle rotelline che hai visto Che sicuramente ci ammazzano Quindi togliamoci subito il dubbio E suppongo di sì Non voglio neanche provarle Allora Qua abbiamo solo uno? Sì Ok Quindi Allora l'uscita è lì sopra Ta 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 Aspetta Ci serve una scala E la scala è questa La scala è lì Ok Allora spostiamo Iniziamo a spostare tutto qua Ok Dopodichè Colleghi la scala Prendiamo questo E questo Giusto? Non lo so Non vedo Prova a vedere se è tutto collegato Provalo Non lo so Non lo so Allora Noi saliamo Corriamo qua Saltiamo 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 Prendiamo chiave Apriamo porta Scendiamo di sotto Rissaliamo Rissaliamo E ci prendiamo la scala Scriviamo questo Facendo così Andiamo in questa scala Saltiamo così E ci prendiamo la chiave Beh a questo punto Sì è data Ok sì Ha senso Ha senso Ma che bello Che è quando riesci a collegare tutto Certo Dai allora fai questo Io adesso sto zitto E tu lo fai Cosa sono quelle cose nuove? È la leva? Non lo so Infatti i tuoi Fammi vedere come io Ti interrompo sempre Vai? Mi preoccupa La vedi la stanza con la leva? Sì Che è chiusa Eh Quindi Devi azionare la leva Allora Fai una cosa Attaccala vicino Voglio vedere cosa succede Come funziona sta leva Attaccale Così dici? Sì Voglio vedere un po' Cioè tipo se esci Si annulla E devi premere Giusto Ce l'ha scritto E questa è selezionata Ok però se li scolleghi Sì Ecco come immaginavo Come immaginavo Quindi devi trovare Un modo Cioè devi trovare Una stanza Allora Questo lo puoi collegare Ma che non ti blocchi il tutto Perché ovviamente qua Faresti un loop infinito Di entri No ovviamente Allora sicuramente L'entrata si collega a questa Vedi? Ehm Questa? Probabilmente a questa Sì mi sembra la più logica Ok Ok ci sono Vai Ok colleghi quella La Tatta Come si dice la leva Sì La colleghi lì a quella porta A questa? Sì Ok E l'uscita poi sotto quella scala Ok Secondo me ha senso Sembrerebbe Sembrerebbe Proviamo Proviamo Usciamo dalla porta Questo sicuramente ci permette di salire o scendere no? Sì Ah ok è un ascensore Perfetto Bellino come ascensore Ok quindi Tatta Taccate E riandiamo qua Saliamo un po' Ma ci fermiamo Andiamo qui Azioniamo la leva Riusciamo Si apre Quindi noi possiamo scendere E ce l'abbiamo fatta Visto che ce l'ho fatta Sei un fallito Eh però ci hai messo molto Sei un fallito Non è vero Stai facendo la metà del tempo Non è vero Sei un bugiardo Quindi hai fatto aspettare i consolini Stai cercando di improgliarmi Per screditare la mia bravura Quindi non ci provare Allora ti dimostro che io sono più veloce E questo è anche più difficile No Non me l'aspettavo neanche Ascolta Facciamo una cosa Dimmi Pensiamoci assieme In questi casi due menti Sono sempre meglio di una Dai Io ti dico una cosa E poi tu dici il resto Questo è così Fai il resto Io la mia parte l'ho fatta Era difficile Mica è semplice da capire Allora Qua c'è un ascensore No non è un ascensore È una pressa Cioè quella della leva Mi intrippa Questa è l'uscita Quindi la lascio via Così Allora aspetta Abbiamo una cosa in meno Su cui ragionare Questo Allora collegalo a quello di sotto Secondo me Non è mai a questo Non è mai le cose scontate Esatto Quindi a quello di sotto Facciamo le cose così Teoricamente Ta 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 La scala ci porta Qua Giusto? Sì così E poi l'uscita Ok Mi sa che sono Una sopra l'altra Penso che vadano un po' in conflitto Spostale Devo spostarla Ok Vai proviamo Quindi noi andiamo in questa porta Ci prendiamo subito la chiave Usciamo da qua Andiamo sulla nostra scala La scala ci porta dove? Qui Azioniamo la vela Va bene La leva Abbiamo la porta Quindi noi possiamo andare qua E ci porta su Ok Bravi Vedi che insieme ce la facciamo in frettissima Bravi bravi Che squadra eccellente What? Allora vai Uhu Ok E quindi adesso ci sono i livelli pure con i trampolini? Ah no Abbiamo finito il gioco Ok Sì vabbè Vabbè E' corto perché infatti come leggete qua E' semplicemente una demo Ci siamo ricordati di dirlo? All'inizio del video? Penso di no Cioè Penso di no Abbiamo detto tutto Trendo che era una demo? Esatto Ok Vabbè vabbè Era una demo Adesso lo sanno Adesso lo sapete Sì semplicemente il gioco diciamo che è una piccola parte Una sorta di tutorial perché il gioco è ancora in fase di sviluppo Infatti stanno come leggete stanno anche chiedendo fondi su kickstarter Per poterlo creare A me è piaciuto tanto Esatto Anche se è stato breve Mi piacciono questi puzzle game che ricordano un po' i nostri escape Però ancora più interessante perché è una cosa che non avevo mai visto Secondo me è divertente Cioè la cosa più figa è che hai il puzzle ma allo stesso tempo l'azione del muovere anche l'omino Quindi diciamo che non è tutto un pensare ma anche un po' il muoverti e vedere se appunto funziona Questa cosa è quella che mi ha divertito di più Comunque il gioco appunto ha la campagna e se volete potete lasciare qualche soldino Noi vi lasciamo il link della demo e della cosa per dargli qualche soldino Noi probabilmente qualche cosettina gliela lasciamo Oh quando a noi ci piacciono Perché è interessante e se il gioco lo fanno uscire lo portano volentieri Esatto Cioè appunto a noi quando i giochi piacciono ci fa sempre piacere supportarli Quindi ottimo davvero bello Una bella scoperta Sì non chiedeteci quando esce il gioco ragazzi perché non abbiamo contatti Non sappiamo minimamente Cioè quando uscirà uscirà noi cercheremo di stare attenti Perché nel caso in cui lo continuano appunto lo giochiamo volentieri Comunque direi di fermarci così Vi lasciamo un sondaggio per farci sapere se appunto vi piace questo genere Così magari cerchiamo qualcosa di simile E direi che ci possiamo fermare così Beh ragazzi direci così Ciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaciaci E se la prima volta che avete il nostro video potete considerarli Da di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 ciao